Che cosa ne pensi di Maria Sofia? Diceva anche cose sensate secondo me, cos'ina la condividevo anche Ma poi porca puttana mi scendi così Cioè ti metti a vendere la tua *** per 5 euro al mese Un abbonamento di Netflix costa 10 euro mensilmente Vuol dire che la sua *** vale meno di un abbonamento di Netflix Come può una persona ridursi a fare questo? Cioè un attivista può aprirsi OF Per i soldi la gente sarebbe davvero disposta a fare di tutto